Ecco la paglia, è venuta più forte! Questa volta si può andare già su fuori, è la prima volta che ci sono arrivati due o tre nuove! Allora prima tu avevo già un miracolo che non sono andato più di più, lascia la furlezza! Lascia lì! Non è arrivato tutto inizio! Ok, ok! Non è arrivato tutto inizio!